Ciao, salve a tutti, della serie si chiude il finale in gran bellezza guardate che belli, le ho fermate perché altrimenti loro tendevano ancora a completarli, a completare, a completare altri melari e adesso non va più bene, adesso devono riunirsi sotto, nel nido, tutti assieme guardate che belli che sono su questi favi questi portano il 16 e 2 anche la parte non opercolata e 15 e 8 la parte opercolata il finale va al 16 e 2, quella non opercolata solo al 16 vien fuori, sono tutti opercolati ovviamente, bellissimi, sono favi stupendi stupendi questa parte non opercolata qua, che ho teso a fermarle, altrimenti però adesso completavano ancora bellissimi, con le mente e adesso vado a smelarli andiamo a smelarli, purtroppo il video, vedo, si sta bloccando ma ecco, quelli più esterni, vedete, sono un po', intendevano a opercolarli ma basta, adesso si fermano questo sarà un melario che vado a smelare che porterà il 16 adesso, tutta quella parte non opercolata è al 16 e 2, quasi al 15 e 8 bellissimi vado a fermare perché loro continuerebbero ancora riempirebbero ancora un altro melario questo avrebbero tirato a completarlo ma adesso devono prima riempir bene sta a riunirsi sotto riunirsi sotto e proteggere bene come poi vedrete dalle immagini adesso loro sta molto meglio rispetto a pochi giorni fa che erano anche a melario stavano bene ma adesso sta ancora meglio perché si sono ripulite meglio dalla varroa già da sole poi le aiuterò con trattamento bellissimi questi sono favi e sono melari pieni e sono belli i pesi sono da due chili e mezzo questi favi due e mezzo sempre questo quasi tre e loro tendevano ancora a riempire ma basta adesso devono riunirsi un saluto a tutti